Siamo i signori Santoro e Gallucci, c'avevo un appuntamento per i nove con mister Müller, siamo un po' in anticipo perché dall'albergo siamo venuti affetti. A Vidagna. Simerate i vostri passaporti, vi faccio il pass. Ecco. Oddio, mi sento male. Un momento, proprio adesso che dobbiamo stare lucidi. Scusi, hai un momento. Non puoi fare adesso. Che è successo? È successo un casino. Ieri sera quella scema della proprietaria dell'albergo mi ha ridato la bussa con i passaporti. Io ancora più scema, non ho controllato. Guarda qua, mi ha dato il passaporto di Temetro al posto del mio. Tu capisci? Mi sento male, io mi sto cagando sotto, serve la firma congiunta. Lucidi, dobbiamo restare lucidi. Noi, l'appuntamento è per le nove, mancano ancora 20 minuti, ce la possiamo fare. Ehi, sei chi l'esandora. 19 minuti e 45 secondi. No, non mi agita, non mi ha mai tranzi. Eh, non ti agita. Ecco qua, Temetro.